sei un artigiano un professionista curi la crescita di una start up l'atelier di artigianato digitale aspetta te contattaci subito e partecipa alla seconda edizione del programma di trasformazione del centro per l'artigianato digitale 12 botteghe per 12 attività professionali che sceglieranno di seguire un percorso di un anno per migliorare la propria attività attraverso l'uso di strumenti digitali e di tecnologie all'avanguardia quest'anno cinque borse di studio offerte da cinque aziende del territorio approfitta di questa possibilità di formazione gratuita partecipa subito ai tempo fino al 28 ottobre centro per l'artigianato digitale il futuro riparte da qui il comune di cava dei tirreni lausino la società che gestisce il servizio idico integrato sul territorio cercano di riconciliarsi sulle partite debitori e creditorie infatti la verifica dei crediti e debiti reciproci al 31 dicembre 2008 evidenzia un disallineamento tra quanto risulta la contabilità del comune di cava dei tirreni dalla quale emerge un credito vantato dall'ente di poco inferiore a 32 mila euro e quanto risulta invece dalla contabilità di ausino poiché la società sostiene che il comune metelliano è debitore nei suoi confronti di poco più di 443 mila euro il comune e la società già da diverse settimane hanno avviato delle trattative finalizzate alla riconciliazione delle reciproche partite debitorie e creditorie anche mediante la ricognizione analitica di tutte le voci che costituiscono le reciproche pretese dopo una serie di incontri chiarificatori il debito del comune nei confronti di ausino sarebbe di 37 mila euro tuttavia resta un disallineamento tra le rispettive partite contabili relativamente a due crediti vantati dal comune ma contestati dall'ausino nello specifico si tratta dei canoni di fitto del piano seminterrato dell'ex circoscrizione di pregiato per il periodo settembre 2013 dicembre 2018 per 194 mila euro e lavori in via 25 luglio eseguiti in danno dal comune per 86 mila euro credito questo contestato da ausino in quanto ritiene che i lavori eseguiti non siano addebitabili alla società alla fine di delimere la controversia le parti hanno concordato di demandare la proposta di definizione delle partite non riconciliate ad un organismo tecnico composto da un dirigente del comune da uno dell'ausino e da un professionista esterno il collegio quindi dovrà determinare il valore locativo dell'immobile e stabilire se i lavori eseguiti in via 25 luglio siano in tutto e in parte addebitabili al gestore del servizio idrico integrato entro il 15 novembre la controversia dovrà essere risolta